Amici di Tele1, benvenuti al terzo appuntamento con il nostro spazio informativo, una consueta rubrica all'indomani delle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale della Calabria, che come è noto si sono tenuti 3-4 ottobre scorsi. Il nostro graditissimo ospite della puntata odierna è l'On. Domenico Bevacqua, per tutti affettuosamente Mimmo, che conferma e anzi ancora migliora addirittura il suo risultato elettorale, il Consigliere regionale uscente, nuovamente eletto fra le vila del Partito Democratico, con una brillante affermazione elettorale, oltre 6.300 preferenze. Grazie per essere qui, On. Domenico Bevacqua. Le chiediamo, come stiamo facendo un po' con tutti i nostri ospiti, un commento a caldo sull'esito appunto di queste elezioni, sia per quanto riguarda la sua affermazione personale, che quella un po' anche del Partito Democratico, che come è noto siederà tra le file appunto dell'opposizione. Intanto approfitto della vostra trasmissione per ringraziare tutti coloro che mi hanno espresso la loro preferenza e mi hanno supportato in questa campagna elettorale un po' particolare, difficile, visto sia il momento dell'emergenza Covid, sia anche, vedeva un centro-sinistra diviso al proprio interno, che sicuramente ha favorito un centro-destra unito, coeso, che usciva fuori da un governo regionale, a mio modo di vedere fallimentare, che però ha gestito questa fase dell'emergenza, ha creato tanti clienti, dico, sul territorio, che alla fine li ha premiati. Io credo che questo risultato dimostra che c'è bisogno di un centro-sinistra coeso, che sappia mettere in gambo cantatori politiche forti, che sappia interloquire meglio col territorio, che sappia valorizzare i propri uomini e che sappia quindi dare un'immagine anche plastica, visiva, di un gruppo dirigente capace, brillante, capace anche di rompere, diciamo, l'ingostrazione del passato, quindi anche dando l'impressione che vi è all'interno del PD una riflessione seria su come rigenerarlo, il PD, perché se continuiamo a vivere in questo modo, sempre con un PD che cerca di sopravvivere e non di aprire porte e finestre, credo che faremo ancora sempre di più un favore al centro-destra, perché il centro-destra non ha un partito organizzato, ha sommatori di clientele che gli consente di vincere in Calabria, come è venuto oggi, ma non ha una struttura di partito come potremmo averla noi, radicata, capillare, attraverso i circoli, gli amministratori, cioè che potrebbero favorire questa, diciamo, grande apertura, questa nuova linfa necessaria per poter riguardare un PD diverso, più radicato, più credibile, più affidabile, più forte e oggi non lo siamo stati, quindi è una riflessione che dobbiamo fare al nostro interno a 360 gradi con forza, coraggio, determinazione e che è la convinzione che se non si va, che non si guarda in questo modo al nuovo PD, al centro-sinistra unito, credo che sempre di più perderemo pezzi, sempre di più non diventeremo attrattivi, sempre di più diventiamo un partito senza anima e nel corpo. Onorevole Bevacqua, prima di addentrarci nelle tematiche più di pertinenza del dibattito politico-istituzionale, mi suggeriva una domanda, lei parlava appunto della necessità di uscire da questo limbo, così possiamo dire, e anche dal fare del partito, un partito anziché, tra virgolette, amorfo, con invece che si riacquisti la propria identità. Alla luce anche dell'esperienza della coalizione con il Movimento 5 Stelle, come si è registrato in Calabria, o laddove nelle grandi città si è andati divisi, però vi sono stati anche dei segnali di voto, fra virgolette, alternativo, penso ad azioni con Galenta. Dal suo punto di vista, che è un politico navigato, quindi ha acquisito maturità e consapevolezza, questo centro-sinistra, rispetto alle forme classiche del passato, a queste attuali, qual è la ricetta, secondo le vincente, proprio per fronteggiare l'attuale centro-destra, dal suo punto di vista? Io innanzitutto, poco fa, di dare forza alla politica, non inseguire coalizioni che vengono costruite solo in base al momento, al populismo di turno, al colunguismo di turno, alla rincorrere, diciamo, di temi, magari giusti, ma poco sentiti dai cittadini, quindi il PD, oggi debba riflettere su questa cosa, cioè come ridare forza al partito del territorio, come motivare i dirigenti del territorio, come valorizzare un gruppo dirigente nuovo, come anche dimostrare che c'è, da parte di chi ha responsabilità, come è stato scritto, di fare anche dei passi indietro, io ho già dichiarato che l'ultima cantatura che faccio nel Consiglio regionale, perché credo che dopo dieci anni di esperienze in Consiglio regionale, bisogna dare spazio, voce, ascolto, e creare quella competizione sana all'interno del partito che consenta, poi ecco, di motivare, stimolare, incoraggiare, favorire, diciamo, nuove energie, nuove energie fresche, nuove energie fresche, questa è la scommessa, io mi metto in discussione, ma sicuramente però un'escussione vera nel Partito Democratico, perché credo che sia arrivato il momento di aprirla un'escussione, con coraggio, con forza, avendo rispetto di tutti, ma dicendo le cose che bisogna dire. Onorevole Bevacqua, lei, pur se dal punto di vista dell'opposizione, è impegnato sul territorio su più fronti, noi sappiamo che lei, se non erro, è originario di Longobucco, ma ecco, è sempre, diciamo, un po' stato presente sia qui su Corigliano Rossano, sulla Sibaritide, sull'Alto, sul Basso Ionio, quindi ben conosce dinamiche e peculiarità dei singoli territori. Mi sovviene alla mente un tema del quale tanto si parla, si è ritornato nuovamente a parlare di Longobucco, anche in tema di arterie stradali, ogni giorno registriamo le varie situazioni che riguardano appunto le infrastrutture, si è ritornato nuovamente a parlare della strada statale 106, che è un'infrastruttura primaria. Le priorità che il governo regionale dovrebbe portare avanti dal suo punto di vista e soprattutto come si coniugano queste esigenze appunto di, è una domanda che io non posso non parla alla luce, diciamo, della sua attenzione sulle infrastrutture. Da quelle che sono i bisogni primari, si parla ancora oggi di elettrificazione della ferrovia ionica, si parla del progetto della 106 con le prime dichiarazioni del nuovo governatore Occhiut sul ponte e sullo stretto. Cioè come si possono accostare? Sì, sì, ma la sua domanda è giusta e pertinente. Io credo che il ponte dello stretto e sullo stretto deve essere, diciamo, il trampolino finale di un percorso fatto che permette di uscire dell'isolamento alla Calabria. Perché se io devo solo, diciamo, avvicinare la Sicilia e il resto del paese, a me non serve. A me serve creare quelle infrastrutture necessarie sul territorio calabrese che faccia con le dorsali che permette di uscire dell'isolamento le aree interne, con la gente estrella che permette di uscire dell'isolamento con questa parte importante della Calabria, con l'elettrificazione della rete ferroviaria e poi è certo che sono favorevoli al ponte dello stretto. Perché guai se dovessero fermarci solo alla Calabria. Perché l'Italia sta insieme se si favorisce il meglio, se si favorisce la mobilità, se si favorisce, se si fanno conoscere le bellezze culturali, architettoniche che abbiamo nel nostro paese nella sua interezza. Quindi ci mancherebbe altro. Io non sono conto del ponte dello stretto. Io il ponte dello stretto lo vedo come il trampolino finale di questo percorso che deve far uscire dall'isolamento la Calabria e i calabresi devono portare questo obiettivo prima. Quindi consentire la mobilità che è un diritto a tutti i calabresi favorendo processi più importanti diciamo di prospettiva europea come il ponte dello stretto ma io penserei più alle emergenze che abbiamo e quando lei parla dell'elettrificazione ionica io vorrei dire che questo è un progetto che abbiamo messo in campo quando io ero presidente della Commissione di trasporti in Regione Calabria che guarda caso in questi due anni è stato fermo completamente e nessuno ne ha parlato. Anche la freccia argento che ha consentito in qualche modo di favorire diciamo la mobilità di accelerare di agevolare è una scommessa che io l'ho fatta in prima persona con il presidente della Commissione di trasporti insieme all'Associazione Musumano insieme al presidente Oliverio di allora cioè è stato un processo che abbiamo in qualche modo messo avevamo tentato di mettere in rete anche l'Oioni quindi questa è oggi una domanda che dobbiamo porci tutti oggi l'Oioni esprime finalmente più consiglieri regionali e questo è adesso un elemento di riflessione che deve caratterizzare chi ha responsabilità di governo perché adesso non è che qualcuno può dimenticare che questo territorio esprime già esprime tre consiglieri di maggioranza e due di minoranza parla della Sibarite e non la Sibarite decreti su decreti finanziamenti su finanziamenti che hanno aiuto a crescere il territorio cresce se c'è una visione se c'è un progetto se c'è ad esempio un progetto che mira ad esempio all'autostrada del mare se mira un agroalimentare ancora di qualità ancora ulteriore se mira alla valorizzazione dell'endroterra se mira alla valorizzazione del parco della Sibarite cioè questa è la visione non è quello che io devo finanziare supportare solo chi fa attività ci mancherebbe altro ma questa è l'ordinaria amministrazione il politico si qualifica non mi mette in campo questa visione di potenziare le bellezze che abbiamo sul territorio quindi di mettere in campo di innestare meccanismi progetti tali da poter davvero far uscire dell'isolamento la Sibarite perché la Sibarite si sta perdendo un'occasione importante che è la fusione sulla quale io mi ero speso molto mi ero impegnato e mi ero caricato sulle mie spalle ahimè questo non so se è positivamente negativo ma mi sono caricato io sulle spalle la fusione nel momento in cui è venuto meno Graziano dal Consiglio regionale perché poi la storia si dimentichi in questo territorio ed è facile quando si viene giudicato non sulla sulla visione ma sul crindelismo non sulle piccole cose io credo che questo territorio non crescerà mai perché credo che questo territorio deve anche valutare valorizzare chi davvero aveva capito che la fusione ahimè oggi arranca ma la colpa non è della visione dell'idea la colpa è di chi poi non ha saputo tramutare trasformare l'idea in successo del territorio perché se questa diciamo idea veniva supportata veramente da una classe di gente adeguata attrezzata forte mettendo in campo veramente questo territorio diventava il motore dell'economia calabrese il motore e quindi anche su questo credo che bisognerebbe fare una riflessione su perché sul come e su tante diciamo cose che questo territorio poteva sfruttare e non ha sfruttato per me la fusione è un'occasione ripeto che andava sfruttata che andava valorizzata che doveva motivare tutte le energie forti perché attraverso questo territorio diventava il motore il traino dell'esviluppo economico non della principale della calabria onorevole lei parlava di visione di ampio respiro quindi di progetti lungimiranti a lungo termine che vanno al di là di quelle che sono le politiche di bassa lega appunto clientelari e soprattutto ricordava secondo me a giusta ragione qual è stato il suo ruolo propulsore del progetto di fusione all'indomani anche della decadenza dello stesso onorevole Graziano dal consiglio regionale noi ci troviamo a Corigliano Rossano dove ogni giorno registriamo una profonda situazione di disagio malessere noi siamo invasi da richieste di telefonate e messaggi che riguardano problematiche non la voglio trascinare in questioni di tipo comunale e amministrativo però l'area urbana di Corigliano registra soprattutto parlo dell'area urbana di Corigliano grande diffuso maressere verso il progetto di fusione a nostra ragione io le dico il mio punto di vista personale sono d'accordissimo con lei non per il progetto in Z ma per quello poi che è stata fatta l'attuazione perché altrimenti è davvero una grande opportunità a chi dobbiamo rivolgerci per un'inversione di tendenza per evitare che questo io ho fatto un articolo questo mirabile progetto diventi una disillusione e venga appunto tutti i giorni acutizzato da una continua vista polemica che non porta da nessuna parte perché sembra quasi che ci sia un sopraggiunto un sentimento di rassegnazione di una cosa che ancora prima che è nata io questa separazione che lei fa io la colgo sul territorio questa amarezza questa profonda delusione questa anche disaffezione verso questo progetto ed è un errore è un errore ma io credo che l'errore principale deriva dal fatto che non si è creato intorno a questo progetto una solidarietà tra le due comunità Corigliano e Rossano si è creato ancora più distacco tra le due comunità invece questa funzione doveva servire ad unire a cementificare a far capire che oggi non c'è più Corigliano e Rossano ma c'è un'unica entità e da questa entità poteva uscire fuori l'idea vingente per la Calabria e per questo territorio quindi l'università che devono fare prima chi vive in questo territorio e che anche dal punto di vista culturale di esperienza poteva dare una mano a questo progetto e anche da chi ha vinto le elezioni che poteva dare una mano e dove meglio a mio modesto parere utilizzare ruoli funzioni responsabilità e coinvolgimento che non è stato fatto quindi sono tutti elementi che non aiutano anzi sono tutti elementi che portano ancora di più ad alimentare quel clima di negatività di contrarietà di disaffezione di quasi rifiuto di questo progetto quindi credo che io l'invito che faccio agli amministratori locali alle varie associazioni culturali presenti sul territorio a chi ha ruolo di responsabilità a chi potrebbe aiutare in questo processo di non demordere perché io da questo processo a mio modesto parere con grande umiltà lo dico davvero poteva segnare una svolta quindi se fallisce il progetto non fallisce l'idea ma è l'uomo che lo fa fallire è la mancanza di visione che lo fa fallire è la mancanza anche di quell'approccio culturale diverso che permetteva di superare i localismi e di favorire il progetto questa è una riflessione che bisognerebbe ecco anche voi che avete ruoli di responsabilità in quanto massimedia di aprirla questa riflessione sulle cause sul perché non funziona non ha funzionato e quindi bisogna aiutare anche una riflessione a più voci anche animata però qualcuno deve alimentare questa discussione altrimenti davvero se tu punti il dito contro qualcuno e nessuno aiuta poi il dito a farlo diventare più piccolo fino ad eliminarlo diventa una morte una morte lenta un'agonia un'agonia che alla fine poi non porta a nessuna parte se non a fare perdere valore al territorio ruolo al territorio possibilità al territorio e possibilità di avere finanziamenti alla Comunità Europea perché era questa una scommessa su cui dover lavorare quindi il territorio perde non vince non è che vince bevacqua e perde Fabio ma perde tutto il territorio perché fino a quando una parte del territorio guadagnava lei diceva poco fa che la zona industriale soffre molto ma non è che la zona industriale di Rossano ha guadagnato pure qualcosa cioè proprio è in sofferenza il territorio perché quando non c'è una guida forte nei processi autorezza nei processi una 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 un'iniziativa progettuale tale da poter dire che forse qualcosa la stiamo costruendo certo che alla fine tutto si perde tutto si affloscia tutto si indebolisce strutturalmente si indebolisce ecco questo è la io l'invito che pur non avendo qua mi sento di rivolgere a tutti diciamo gli abitanti di questa città grande ecco di riflettere ognuno per le proprie competenze ognuno per la propria diciamo funzione ognuno per la propria eh anche possibilità di dare un contributo a risolvere aiutare a integrare a modificare comportamenti atteggiamenti e quant'altro io credo che questo sia un motivo vero che deve animare oggi la vita politica la vita politica è culturale di questo di questa di questa città importante che è quella è la città più grande della provincia di Cosenza se lei vede oggi non è più Cosenza la città ma è Corriano San e questo già deve essere un motivo non dico di orgoglio ma un motivo di creare di caricare di maggiore responsabilità tutti voi che avete che avete ruoli in questo territorio Onorevole è stato chiarissimo chiudiamo con un'ultima domanda se mi consente si parlava di grandi visioni di grandi prospettive la tabella di marcia da rispettare per l'agoniato ospedale della Sibarit e poi soprattutto quale futuro per lo sviluppo finalmente diciamo a pieno a 360 gradi del porto di Corigliano Rossano io l'ho detto poco fa per quanto riguarda l'ospedale penso che ci siano tutte le condizioni per completarlo da qui a un anno e mezzo due anni adesso non mi ricordo i tempi precisi ma ci stiamo stiamo lavorando il problema è dopo vediamo dopo prima vediamo diciamo la nascita della struttura fisica poi dipenderà anche da come si arriverà poi a riempire di contenuto l'ospedale della Sibarit io sono da questo punto di vista sono fiducioso sono certo che se si lavora in maniera seria in maniera unitaria coesa io penso che l'ospedale della Sibarit potrebbe diventare da qui a 3-4 anni una delle eccellenze della provincia di Cosenza per quanto riguarda il porto di Corigliano ho detto la mia idea io penso anche all'autostrada del mare quindi questa è l'idea su cui poter lavorare che favorebbe anche i prodotti agricoli di questo territorio tante altre cose portarle fuori questo dobbiamo lavorare noi nei prossimi mesi e poi come secondo me anche collegare incastrare il parco ecologico della Sibarit con questo territorio perché è tutto uno il territorio quindi noi dobbiamo essere bravi noi abbiamo dal punto di vista culturale storie più storie più culture più epoche abbiamo il codex faccio un esempio il codex propulio abbiamo una serie di ricchezze da mettere in rete e per farlo però c'è bisogno di una classe di gente adeguata che accette le sfide che supera il localismo che sa anche competere con altri territori che vuole ecco essere diciamo da strono anche per altre altre occasioni di crescita però ecco c'è bisogno di qualità di classe di gente non c'è bisogno di altro perché ogni paese diciamo si dice che il paese ha la classe di gente che si merita noi trasformiamo questa questo diciamo modo di dire in concretezza quindi scegliete i migliori che avete scegliete i migliori che avete perché scegliendo i migliori che avete questo territorio cresce se voi vi fossilizzate solo sul voto legato alla clientela o legato alla piccola diciamo soddisfazione personale questo territorio non crescerà mai io credo che questo territorio merita una classe di gente adeguata che sa perffrontare queste sfide perché solo così si vince la scommessa si vincono gli appuntamenti che si presenteranno davanti e soprattutto si darà dignità forza speranza a chi come tanti giovani tante donne tanti padri di famiglia che oggi si vedono abbandonati a se stessi questo è io l'augurio l'ospicio che faccio a questa bellissima città e a questo gruppo di gente che dovrebbe guidare i processi necessari per poter guardare non al domani ma al futuro perché ricordatevi un esempio di una cosa che il politico che guarda al contingente non è un politico quel politico quello è la burocrazia il politico che guarda al futuro è quel politico che sa guardare avanti e noi dobbiamo andare avanti per dare possibilità di crescita e per dare speranza a chi oggi è lontano dalla politica dai partiti e anche da tutte le forme di partecipazione possibile nelle proprie comunità onorevole il tempo è tiranno però noi ci congediamo con la parola speranza che lei ha usato e non possiamo che unirci a questo suo corale auspicio ed invito io sono cattolico quindi da cattolico non posso non essere conosciamo benissimo la sua formazione il suo excursus che è sempre stato diciamo anche coerente e quindi inzimbiosi esatto e noi la ringraziamo per aver accolto il nostro invito naturalmente cammin facendo appena intrapresa l'attività istituzionale quindi nel novelo delle attività ecco noi torneremo a ridisturbarla per commentare insieme quello che sarà sia ecco il percorso intrapresa della maggioranza sia l'opposizione propositiva dell'onorevole Bevacqua la ringraziamo tanto a presto di vederci e grazie a tutti voi a presto